Buonasera a tutti e rieccoci ancora una volta sintonizzati su Cannotv, torniamo oggi a parlare di cinema italiano, in particolare di spaghetti western, di western all'italiana e lo facciamo in realtà con un film piuttosto poco ricordato, generalmente poco menzionato ed è un peccato perché è un film veramente molto interessante a parer mio. Si tratta di una produzione italo-spagnola risalente al 1969 diretta da Nando Cicero, Fernando Cicero, regista ma anche attore, ha presenziato in alcuni ruoli minori in film molto importanti anche fra cui Senso di Lucchino Visconti, uno dei più grandi film del grande regista con protagonisti Farley Granger e Alida Valli ma a livello registico analogamente a tanti altri suoi contemporanei ha spaziato nei vari filoni cinematografici che erano in voga all'epoca. Oltre allo spaghetti western naturalmente infatti ha diretto anche alcuni film della coppia Franco e Ciccio come ad esempio Macchitta dato la patente, Armiamoci e partite, Cufu dalla Sicilia con furore, Ultimo tango a Zagarol, parodia naturalmente del celeberrimo film di Bertolucci con Marlon Brando, ma anche altri film associabili al filone erotico come ad esempio Il gatto mammone con Lando Buzzanca e poi un sacco di commedie sexy delle varie insegnanti, soldatessi, liceali, insomma i film sexy con le varie professioni e quindi abbiamo L'insegnante del 1975 ma anche tutta una serie di film di quel determinato filone come La dottoressa del distretto militare, La soldatessa alla visita militare, La soldatessa alle grandi manovre, La liceale, Il diavolo e l'acqua santa e via dicendo. L'ultima sua regia perlomeno cinematografica risale al 1983 e si tratta di Paolo Roberto Cotecchino, centravanti di sfondamento che aveva per protagonista Alvaro Vitali. Film decisamente di stampo più leggero rispetto a quello che vi propongo oggi. Infatti oggi si parla di Due volte Giuda con protagonista il luciferino Klaus Kinski che spicca in una posa quasi iconica nella locandina di questo film, peraltro una locandina molto molto carina che ci inquadra naturalmente l'antagonista del film. Quando c'è Klaus Kinski non può che fare l'antagonista anche se in realtà in alcuni ruoli ha vestito anche i panni del buono. Qui Klaus Kinski si muove in coppia con Antonio Sabato che era un attore morto purtroppo anche recentemente l'anno scorso, credo, un attore molto presente comunque nel cinema di genere italiano dell'epoca, non solo per quanto riguarda il filone dello spaghetti western ma anche per quanto riguarda il filone noir, polizzesco, avventuroso, bellico e via dicendo. E a proposito di noir, questo spaghetti western che secondo me ha una bellissima fotografia ad opera di Francisco Marine, veramente molto bella, che esalta oltre che gli scenari tipici naturalmente, qui parliamo di un film a colori se va a san dire, oltre che gli scenari tipici del West riesce secondo me ad esaltare alla perfezione i volti dei protagonisti del film nonché dei loro comprimari, per cui è un lavoro veramente molto interessante di fotografia che si accoppia idealmente con l'attenta, secondo me, regia di Nando Cicero che pur trovandoci naturalmente nei limiti di una produzione di serie B di un B-movie, secondo me riesce a restituire una certa eleganza anche all'aspetto registrico del film. E a livello di trama è uno spaghetti western, secondo me molto importante, molto interessante anche, è un riuscito esperimento perché assomiglia quasi più a un noir o comunque a un film di mistero, piuttosto che a un western vero e proprio, perché il protagonista Antonio Sabato interpreta un certo Luke, un uomo che si risveglia senza memoria nel deserto, non ricorda niente, non sa chi è, non sa da dove arriva e giunto nel paese, nel paese insomma vicino scopre che un sicario insomma lo aveva in qualche modo assoldato per uccidere un uomo, un uomo che scoprirà essere, Klaus Kinski, suo fratello e quindi si rifiuterà naturalmente di portare a termine questo ingrato compito, cioè l'uccidere il proprio fratello per il quale viene in qualche modo appellato da questo sicario che incontra come un Giuda naturalmente, perché solo un Giuda compierebbe un tale tradimento nei confronti del fratello e dopo aver salvato la vita al fratello Victor, di nome Victor, scoprirà piano piano il suo passato, quello che è il suo passato, nonché i suoi trascorsi con il fratello o perlomeno con l'uomo che dice di essere suo fratello. Per cui un western veramente molto interessante che oltre secondo me a mettere in scena alla perfezione le dinamiche e i cliché tipici naturalmente del genere offre anche un vero e proprio mistero che noi scopriamo passo dopo passo attraverso i flebili ricordi che lentamente affiorano nella mente appunto del protagonista. Abbiamo delle grandi secondo me interpretazioni sostenute da un grande doppiaggio, sia Kinski che Sabato naturalmente sono doppiati, così come sono doppiati anche gli altri attori che prendono parte al film. Il cast è piuttosto interessante perché oltre ai due attori protagonisti da poco menzionati vi sono anche Franco Leo, Christine Galbo, Emma Baron, Linda Sini, volto molto noto nel cinema dell'epoca dai Peplum alle commedie all'italiana, il sorpasso naturalmente e tante altre, Gastone Pescucci, Gaetanio Scala e poi la partecipazione di José Calvo che era un attore spagnolo molto molto presente nella cinematografia dell'epoca, in particolare nella cinematografia relativa agli spaghetti western naturalmente per la sua particolare fisionomia era un interprete ideale per tale genere di pellicola. È indimenticabile insomma il suo ruolo al fianco di Clint Eastwood naturalmente in, per un pugno di dollari, la prima celebre regia western, nonché seconda regia del grandissimo Sergio Leone. Quindi che cosa dire, è veramente un bellissimo film. Io l'avevo rivisto, l'ho rivisto insomma pochi giorni fa, l'avevo visto più e più volte ma tanto tempo fa, gli mi volevo rinfrescare un po' la memoria e devo dire che nonostante sia tutto sommato tra le opere minori diciamo di quel filone estremamente fertile del nostro cinema come ben sappiamo, secondo me racchiude delle caratteristiche che lo rendono veramente piacevole anche ancora oggi insomma, se visto dopo tanto tempo. Io vi ringrazio per l'ascolto di questa breve recensione a riguardo, ve lo consiglio caldamente ma se l'avete visto fatemi naturalmente sapere che cosa ne pensate a riguardo, mi farà veramente piacere leggere e rispondere a tutto ciò che eventualmente mi lascerete scritto. Grazie per l'ascolto e ci rivediamo a voi piacendo al prossimo video. Ciao a tutti!